Durante il mio quinto anno al liceo socio pedagogico San Bellarmino di Montepulciano ho potuto partecipare a diversi progetti organizzati dalla stessa scuola. Uno di questi è denominato percorsi di qualità e consiste nel visitare le diverse università di Siena. Durante il primo incontro che si è svolto a novembre abbiamo potuto visitare l'università di Siena in modo particolare giurisprudenza e scienze politiche, mentre domani andremo a visitare quella di medicina e questo progetto comprende anche l'università di lettere e filosofia. È un progetto molto importante ed interessante innanzitutto perché permette di capire la vita universitaria quindi di orientarsi in un mondo nuovo per lo studente che sta uscendo dalla scuola superiore e per questo motivo lo consiglio agli studenti che hanno l'opportunità di aderirne. Inoltre è molto importante in quanto ci ha permesso di assistere alle lezioni e quindi di capire la difficoltà o meno e di interessarci poi a un particolare indirizzo, a una materia che ci interessa. Sicuramente è un progetto molto importante poiché frequentiamo un liceo e quindi la maggior parte degli studenti che uscirà da quest'anno dovrà frequentare l'università e quindi è proprio importante per capire come orientarsi e come comportarsi in modo particolare per quanto riguarda l'università di lettere e filosofia o comunque scienze della formazione e dell'educazione che è poi quella facoltà che abilita all'insegnamento e che quindi è molto adeguata alla scuola che abbiamo frequentato. Grazie a tutti.